Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, ci dovete sopportare tutti i giorni per più volte al giorno in questo periodo fino al 24 di dicembre perché, come sapete bene se avete visto le puntate precedenti, devi stare a fare piano, un attimo! Che ansia di vedere, anche voi volete aprire il calendario dell'avvento in piena notte, passata la mezzanotte! Allora, rocce minerali l'abbiamo preso su Amazon, per il momento positivo quello che abbiamo trovato il primo giorno, ovvero il primo di dicembre, un quarzo rosa e questo crede che lui sia... lui crede... ipotetico quarzo giallo, non dialino forse, ma non ne sono sicuro l'unica pecca di questa scatola è che non ci sono descrizioni delle pietre all'interno però le pietre sono molto belle! giorno 3 di dicembre, oggi, andiamo a vedere una cosa microscopica è una roccia, credo non profuma, perché le rocce non profumano, però mi è venuto ad annusarla, non so perché, sembrava una mentina questo, ho capito cos'è, non mi ricordo, questo se tagliato in due, dentro è trasparente, è molto trasparente e ha questa polverina leggermente brillante all'esterno, però dirvi che pietra è, io non lo ricordo forse l'elfo domestico se lo ricorda, diciamo che il giorno 1 e 2 le dimensioni erano importanti, nel giorno 3 le dimensioni sono diventate un po' più piccoli saremo veloci perché tutti i giorni sopportarsi, insomma non è facile... 24 è più piccolo, è metà di una mentina! però un diamante magari, chissà il 24 che cosa ci sarà, seguiteci quindi iscrivetevi al canale è perché 24 è prima di Natale, iscrivetevi, mettete un like, condividete, commentate, potete anche tentare di indovinare cosa ci sarà il prossimo giorno e chi lo sa andremo a vedere! io spero un ametista! scusami, l'ametista c'è, poi sarebbe bello un opale, qui vedo che c'è anche un dente di squalo che non sarebbe male bello, io mi ricordo che... una pirite! sicuro! ho preso il braccialetto con il dente! è vero! e quindi come sempre... noi ci vediamo al prossimo video, ciao!